Dal Veneto non si potrà volare nelle prossime settimane verso Israele, Giordania e Corea del Sud a causa delle restrizioni ai passeggeri italiani imposte da questi paesi. È diminuito nelle ultime ore il ventaglio delle destinazioni raggiungibili dagli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso. Tutto è funzionante come sempre, spiega Camillo Bozzolo, direttore commerciale Aviation del gruppo SAVE. Ma stiamo soffrendo. Nei primi tre giorni di questa settimana abbiamo registrato una flessione del sistema degli scali veneti del 30%. All'interno del Marco Polo di Tessera si vedono pochi passeggeri sostare nei corridoi. I negozi sono vuoti e le file al check-in molto meno affollate dei giorni scorsi. Qualche sera fa sono stati fatti rientrare nello scalo lagunare i turisti EasyJet di due voli partiti da Malpensa e Venezia, ai quali era stato impedito l'ingresso in Israele.